Ma tanta perché siamo arrabbiati, siamo incazzati e come ho detto prima non voglio vedere nella faccia dei giocatori ma in tutto l'ambiente rassegnazione perché è l'ultima cosa che ci deve essere perché siamo a un punto e abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Siamo alla Juventus e non dobbiamo essere rassegnati a questo tipo di classifica, dobbiamo tre gare importanti per raggiungere l'obiettivo e dobbiamo dare tutto noi stessi per arrivare fino in fondo. La cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi perché abbiamo ancora tre partite, siamo a un punto dalla Champions e essendo nel calcio da tanti anni l'ho vista di tutti i colori, ho visto vincere campionati all'ultima giornata, perdere Champions all'ultimo secondo, io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Quindi la rassegnazione non ci deve essere, ci deve essere grande positività, sapere che abbiamo ancora la possibilità di andare in Champions e questa deve essere la cosa più importante all'interno di noi stessi. Magari tu all'inizio hai un'idea di calcio e poi quando inizi ad allenare vedi le caratteristiche dei giocatori e cerchi di adattarti a queste perché non è possibile scegliere 30 giocatori come piacciono a te e comprarne 30. L'allenatore deve essere bravo ad adattare i giocatori che ha a disposizione e farli rendere al meglio. Quindi questa è la cosa che volevo dire ed è quella che tutti gli allenatori hanno sempre durante le squadre che allenano. Hanno dei giocatori, magari pensano di avere certe caratteristiche e poi si accorgono che ne sono altre, allora devi essere bravo ad adattarti alle loro caratteristiche.